eccoci qua arrivati pronti per il live allora qui ci troviamo nel ci siamo a monaco e dai dopo tantissimo tempo si ricomincia a fare un po di pesca magnetica vediamo cosa troviamo qui questa è la mia bicicletta guardate come si chiama ecco qua questo è il mio magneto mostruoso mostruoso ragazzi questo qui tira su sacco di roba fissiamo far bene e si lancia via chiudiamo se non lo perdiamo via ma pare che abbia attaccato qualcosa è un campanello sembra un campanello di una bicicletta via secondo lancio non c'è fisse 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 un magneto non c'è fisse non c'è fisse e poi ci troviamo tutto quello che non c'è fisse non c'è fisse perfetto allora cosa tirato su praticamente niente però ho sentito che c'era qualcosa che tirava su allora tiriamo chiaramente c'è un po di corrente in questo fiume e vi posso garantire che qui c'è un sacco di roba dentro per il momento niente solo qualche sassolino dai si riprova non c'è fisse 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 ora allora il primo lancio è stato buono per il resto oh dio cazzo c'è un bloccato ma che fanno? un magneto, fischo non fischo non fischo non fischo solo metalle riusciti la gente le persone le cose e poi li 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 riusciti un piccolo Un po' di più un ragione. Ommo ma come una batteria? E cosa faccio di poterere? Io ho come tutto possibile. Farrer, Waffen, Munition, Reifen, Bremsscheiben tutto tutto l'einito! Ma ragazzi! Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Pezzo di ferro. Grazie a tutti. Un rosario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Incredibile. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. 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 a tutti.